La festa di San Valentino è una festa curiosa, perché è una festa che ha un valore molto commerciale. Nasce però da qualcosa di tanto importante, che sono i legami dagli uomini, l'innamoramento, la capacità di volersi bene e di costruire dei legami. E proprio per questo è un momento così importante, bello, gioioso, profondo, esigente, tanto importante per la vita delle persone. Il più grande innamorato che conosce è il nostro Signore, che ci insegna anche a esserlo, a esserlo sempre, a non vivere di stagioni caduche, a saper costruire sui sentimenti, è l'innamorato ideale.